bentornati ragazzi qua è stepney e benvenuti a questo nuovo live su fifa primo di fifa 13 qui con me c'è ibushi ciao a tutti ragazzi allora visto che l'avete chiesto in tanti lo facciamo e ibushi prenderà le poste no cambia maglia perchè io tengo in milan no vabbè dai metti l'altra vai i bushi sono sbagliato alla ligand guardiamo cosa c'è adesso cos'è questo cos'è il maledetto si è fatto la russia che è tipo pesa user da fa schifo anche la russia anche la russia l'altro hai la liga è liga va bene ti piace la mia nuova squadra agli ospiti che non la possono vedere cioè voi ci sta ascoltando io tipo la serie a tipo si tipo la serie a perché in panchina in teoria ho balotelli però non ho comprato l'altro attaccante da affiancaggio dovrebbe essere di natale ora cerchiamo di non prendere tipo subito gol sennò mi concentro immediatamente si prendono le azze in bocca vabbè non esiste vabbè ci sta per una cosa vuol dire da fa schifo ci sta a voglia gioco baggato vendi costumi allora in apporto vabbè allora mettiamo ultra offensiva subito faccio vedere cosa vuol dire prendere le poste attenzione montolivo montolivo vede l'argo davanti a si fa salire la gente attenzione attenzione che c'è 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 il un piano da fuori così se prendevo pure e stavate ciao marchetti costa mille milioni di crediti il mio pure vabbè il prossimo obiettivo è buffon poi voglio vedere attenzione di spartire l'aspirazione massima di questa squadra è ahimfev che è un portiere di merda e non costa niente lui c'è un buffon con l'aspirazione scotrettezza ahimfev è un portiere di merda infatti non lo deve avere come aspirazione a quelli problema ma la rega russaco per quella l'aspirazione ma a questo punto spera di comprare quelli che ti devo di vabbè sa tutti che i long shot su fifa son baggati no scusate su ultimate team son baggati e favoriscono quelli che cash hanno mi sono dettati ma è possibile bene come si fa tirare con un tondo io chiedo un quadrato con un tondo croce e cioè la sema invertì ma che è se invertì ma sta figlio c'è comandi normali teggiore ti puoi comandi dell'xbox e no mi sono normale c'è un piccolino con le salire mi sono mandati mi sei bomber della mia squadra eh mi sono cavani sulla destra ma cavani tipo non fa mai gol perché c'è un'altra parte dei pezzi fanno sempre gommilito e miccoli miccoli spacca la porta dai cinquanta metri guarì pure però non ce l'ha stavolta rimane panchina mi sono messo a rai eccoci ovviamente miccoli salta il pallone arriva cavani ci crede fa tira da lì con cavani c'è 110 c'era da lì c'avevo il tuo giocatore davanti io tiravo le palle rimaneva ferma lì la palla no che è onda c'è il giappo che vuoi facci il giappo schifo e che farei il giappo un'altra cosa per il giapponoso attenzione camani camani vede salire vabbè si è fermato milito ci crede ancora per montolivo che vuole lo spazio per tirare mamma mia che numeri guillerme guillerme è un portiere da reselling mamma infatti c'è un piccoli ci crede non devo andare piccoli si rivela il tiro penso di salvarci e pigliere come da piccoli e tu non lo sapessi ma freddo c'è i pinguini c'è beh penso ci siano in tutti fa cosa ci fa che i figli capi come sultra offensiva però no che lì non mi fareste oltre perché lì ho capito il progetto e che lì ha tre volte la squadra da sola è che volevo puntare milito ancora vabbè la fallo tirare una volta azzurre che è il mio signora ma di venire pesa music si dà te lo ok è stato fermato l'assedio no mi sono fermato e chi no non era nemmeno fuori gioco ma dove ma nella vita c'era c'era l'arbitro di uve inter la mazzetta gli eravano i denti la mazzetta con i soldi eccolo la tua mamma figlia ma c'è l'illuminante di firlo per nessuno erano in due l'hanno schivata entrambi se non lo sapete eri siamo se tutto il giorno affermiamo uno stand della wii si lo sanno zumbi eccolo c'è la nostra amica numero bene dai sono ridicolosi hai fatto due tiri in port e un palo e una traversa io ho fatto tre tiri in port zero falli zero traversa e portere OP suizio il belga no no da numeri saltella asena e non puoi giocare con i nì così mi sono già a 70 di velocità se c'è la mia base si diseredava no va che non dote nuovamente per te non c'è venire e dai chi è venire se ne riuscissi a non sfiga in questo modo non ho vinto un contrasto ancora tutti lanci pesa user perché non sapesse cosa di pesa user per quelli che curano ho fatto due gol con Witzel c'è a 73 giro cosa c'entra non so non dubbiamo al cazzo dici no si aveva il dunbiacca ha fatto tiro Witzel il dunbiacca è in mezzo a dare a farci calci su lei fa gol no l'assist man bene a questo non c'è no fa limento vabbè a parlare non mi riesco a concentrare se parlo io invece son zitto attenzione eccolo eccolo dai goddà a merda edinson 2 a 1 dai dai che goddà a merda maveri goddà a merda ma è che c'è di senza di un mongolo si si e il portiere portiere proprio però fa il torello che torello si libera così veloti dei rossi veloti dei rossi attenzione ci crede colore di testa comunque c'è tipo questi cosi teleronisti hanno le peggio cazzate in credito prima ho fatto gol attenzione che lì mi condi che lì è uguale io ma ce la faccio ce la faccio città oliver città oliver esatto comunque sto dicendo di andrea sa esse teleronisti non hanno dell'umano the music no vabbè benessi benicchetti di puttana va bene senza offesa quelle puttane ho fatto go di testa a un miccoli eh fabio è la sua specialità è go di testa è alto sanguisuga tralasciandola taglio in questo grazie ciao cazzate tipo grazie montolevo se ieri a luca speravamo di trovare lo stand per fare qualche land e abbiamo due tre con ganja ma lo abbiamo trovato vabbè perché sono dei negri quelli di luca di luca luca omics sonridì o lignano hanno realizzato un cazzo e stanno sono degli c'è le tene di chi fa dodici ma non diamo a volte no non di chi fa tredici tra l'altro di chi fa dodici appunto facendo un torneo di fifa tredici di fifa dodici ma non di fifa tredici assurdo poi gli step ci siamo si è provato a giare un giro per i bambini di tre anni che è sly ma non siamo riusciti ad andare avanti attenzione piccoli prende questo pallone incredibile non facciamo come riescono i bambini a giare a quel gioco si toffetta di gavani che flette i muscoli alla io balance oh my god questo ci si riguarda perché è bello vabbè di che guarda se mi rovesciata e la tua mamma si rovescia al culo se mi rovesciata a Mike Bonduelle racconta la storia di tuo nome ovviamente c'era c'è il giocatore d'udenese Mico Suell Mico Suell e poi a parte di storia è diventato Mike Bonduelle come cosa dell'insalata e ho cambiato il nome pensando di poterlo poi ricomprare e ricambiare di poterlo ricomprare e ricambiare il nome e invece ho fallito sinceramente perché mi è rimasto il nome non ho più giocatore e non posso nemmeno ricambiare quindi ho fallito doppiamente triplamente poi anche Montolivo oddio ma comunque Eurogold di piccoli non è l'Eurogold è la madonna che è europea Bucci che si sta contenendo dal bestemmiare esatto perché sono un video e sono a quest'ora c'era il Vaticano stava stangendo no scendere il Cristo ti figlia c'è fuori pesa più no ma noi che figlio di puttana i miei difensori fanno solo papedi noi fanno solo seghe sarà un motivo se i miei o stanno i miliardi mi porterebbe per esempio a trattenuta tipo 100 e non c'è ne una trattenuta 100 comunque ragazzi è un consiglio che abbiamo sfruttato attenzione che abbiamo sfruttato sia io che che Omega che Bucci quello di per fare un po' di crediti di comprare i giocatori oro a poco tipo 650 750 li mettete nella ricerca e riprovarli a vendere anche a 1000 così non tutti tutte le volte ovviamente non li riuscirete a vendere a 1000 e quindi vi tocca rimetterli un'altra volta tipo a 950 ma anche fino a 850 però piano piano plus valenza dopo plus valenza come dice Ibuci non farete un cazzo perché come ho fatto io sono andato sarete come perché io con tutti questi crediti li ho fatti solo giocando solo giocando e farmando coin in questo modo e di Budstuber si vabbè ora non funziona non funziona più Budstuber non so perché ma si abbassava parecchio dove va? no ma tipo io credo sia colpa mia perché si abbassava perché li compravo tipo a 5000 e li rimettevo a 7000 però vedevo anche c'erano altri Budstuber e andavano 8000 così magari e quindi nulla tipo c'erano stato un momento in cui avevo 10 Budstuber all'asta non avevo la squadra ovviamente attenzione Cavani PUM guarda il portiere ne prende uno a 100 a lui a 0 e piano piano cioè si vedeva proprio i prezzi si abbassavano perché i primi 5 li ho venduti a quanto li vendevo sempre poi ho iniziato a scendere e uno solo riusciva a vendere tipo a 3000 no no scherzo è 3000 3000 3000 buateng 5000 un badge ovviamente buateng è il buateng del bayern mono si è il direttore del bayern non kevin price attenzione che costa uno stipendio di un muratore che scoriggia eh comunque adai ora anche buateng quello lì è sceso a 2000 piccoli aspetta quale buateng sempre dei cost si il buateng è sceso a 2000 attenzione l'orriore di bushi non è l'errore è crissi sei un coglione ingazzi il cielo ingazzi il cielo se volete altri live li possiamo fare anche con omega con strato no perché non ha senso giocare con lui è tipo il campione mondiale però con omega si perché anche con lui me la gioco ora non vedete che sto vincendo di bushi della mia squadra è molto più debole della sua squadra è molto più debole della mia anche senza guardare l'overall basta vedere i giocatori basta vedere il culo anche parecchie squadre online che becco miccoli ce l'hanno attaccante io me lo posso permettere di tenerlo a t e non dico altro non ci dovresti dire altro altro no questa no questa no questa no prima mi sono fatto un autogol tipo incredibile rilancio il portiere io interno il difensore e mi faccio autogol e ho perso nella partita ovviamente seguita da miliardi di ore di rage e ormai accade solo quello su FIFA almeno per noi poi la sua gloria è anche Montolivo che guadagna un calcio d'angolo allora bushi le sue aspettative su Black Ops quale sono? secondo me farà cacare eccoci vai però lo sto rivoluzendo in questi ultimi giorni perché mi sono insomma guardando mi sono documentato abbastanza e mi pare che il sistema di bonus classi eccetera eccetera si è fatto un po' male rispetto a ora vediamo se il semplice fatto è più di 3 a 3 rotto insomma e per il semplice fatto è che la scheda della classe cioè la classe verrà fatta con una scheda che avrà 10 slot che possono essere riempiti con 20 cose diverse il problema è che ci potranno essere classi che hanno un'arma sola e 9 bonus vabbè non penso sia un problema da l'arpa e non ti cambiano e non ti cambieranno nemmeno le ricompense se fai ciò quindi in essenza sarebbero avere specialista appena inizi invece che sbloccarlo via via con le uccise vabbè c'è un'arma sola non hai granate non hai niente però c'è il sciacallo ti dà sempre i miei sogni hai dei vantaggi degli svantaggi ovviamente non è che penso sia tutto proporzionato ci avranno pensato se io ho due bonus invece che un mirino laser da giocatore ricordo di questo me è meglio avere due bonus che un mirino laser però dipende se non riesci a sparare con quell'arma voglio vedere che sia un mongolo un mongolo il mirino laser non lo mettono a caso lo mettono per aiutare bene sicuramente la classe con 9 bonus non è che farei 5 classi e 9 bonus però la monoclassa con 9 bonus sarà più forte di altri BOOM va a finire perdo così a caso dai pesa fusing ma ci sta ci sta sì dai mi difensore non hanno 90 di velocità a vedere oddio vedo consigliato la doppietta a 76 e non ancora hai fatto doppietta i dumbia dumbia c'ha 88 decidi se domenico dumbia un po un dumbia con c'ha 91 ah tra l'altro scusa allora è venire ciao 88 no venire c'ha 90 eh allora è welly è welly che c'ha 88 no scopo boffonti no ce l'hai ovviamente eccolo questo è il gol no no è lo costo le cose più cosa 2000 la rischia 2 riprenda abate ignazina ah ci credo ciao 82 di velocità e tu c'ha 93 che c'entra c'ho il pallone ai piedi allora anch'io quando imbiaccio il pallone ai piedi perché c'è sempre Witzel in attacco non ha senso avrei messo ultraoffensiva anche se finita finita vanno sempre supplementari andrei supplementari vedrai c'è poco da fare sti garbi cazzo questo gol è di dumbia è di Witzel eh ho capito ma eh cazzo di cazzo gare cazzo si a me lo metto dc vediamo di non arrivare ai rigori trappeggi di le neose statistiche sono uguali a parte per il fatto io ho fatto un pire in più bastardo eh ma capirai quindi non c'è appena vedo e te ti fai solo tiri a fuoriare solo tiri da fuoriare intanto tiri a fuoriare te lo sei beccato sotto l'incrocio ti voglio di un montolino ho fatto 6 tiri da fuoriare ma guarda non gli si sta dietro non c'è inverso un po' va bene e poi insomma sotto l'incrocio se lo sei beccato se lo revivito vero adesso cosa fa un po' aereo in questo verso io ho preso una traversa adesso che sono e tu un po' anche io ho un tento stronzo e e questo va bene andiamo c'è la scritta lei lanciarono un sacco di si è preso miccoli lanciarono un sacco di potale piccoli c'ha 23 di fisica che ho fatto 23 di fisica arbitro rosso diretto sei caduto mamma è caduta ma c'è la pelle ti sbilanciano vien via non c'è da vai puoi tirare con le maniche ah ecco bravo vieni con me dove siamo la sagra di tiro la sagra di tiro si tiro ai niggas tiro ai venditori di banane ma poi vedrai prossima partita c'avrò balotelli di natale non ci sarà scampo lì attenzione fallo fuori gioco fuori gioco ma vuoi fare sono mia juventino però l'arbitro non vedremo un prete sulla neve vestito da la gente dai ecco stessone crescito per pillo deve ricostruire deve ricostruire dei ship di armi per me ho visto che la tocca la tocca fa salire dei rossi dei rossi si sa che un colador da fuori ma non puoi sparare adesso o forza si bella merda mi chiede mi chiede anche week food 2 una volta persone incrocio danni danni pesa buzzi ecco la difesa salva le rossi ancora per pietra vede salire vede salire milito sei lanci ho fatto ancora non ho fatto un gol di pesa biologico pieco pieco non hai fatto un gol di pesa biologico dove difesa di un interno non ho fatto uno né con i miei né con i miei di pesa biologico che la passo goddamer non mi pare sono partito dal centrocampo te lo scattavo che hai fatto e poi sei partito al centrocampo e se non hai ripesa biologico non ci partite al centrocampo no certo un posto cioè divertito si che c'hai erisiano rad dunque io ora puoi cambi eh fine primo tempo ma che c'è che lavori che lavori ha pagato 400 attenzione smista al centrocampo se così per montolivo è un goleador è un goleador e perde palla non l'ha persa vuole spolvare il tiro mi portiere mai una volta fermi ripeto ma è la montolivo tira i siluri infuocati si da su mamma c'è siluri infuocati primo tempo è finito se non lo faccio cambi comunque dobbiamo dire che ora mi aspetterò giù in tira tira in più per me eh vale ti li fai tira a 43 metri vedai va bene allora dobbiamo dire che c'era davvero molte ragazze belle quest'anno e noi abbiamo passato ore e ore agli stand solo per loro crescito lo metto in attacca la sento grazie devo precisare che la mia maglietta un sito freehugs ha riscosso più successo di quella di stepney eh certo la maglietta freehugs chiede gli abbracci non è vero e poi se vale non vale stepney ha ricevuto due abbracci da due maschi e per da due maschi e da due maschi e da due femmine che erano bellocchi si va da chi non lo ricevo mi ha fatto cambi ma io non mi ho fatto cambi si me li ha fatti ti ha fatto sì però no perché mi è uscito da sola era finì il tempo no lo muovi sì eh dai fa lui non me li ha fatti le guarie anche ci sono molto vivo per perdere le sceglie si considerando siamo ai centesimo le sceglie non ha più fiatta nemmeno eh guai sì buonanotte dopo lo dico quell'altro non ha più fiatta nemmeno per respirare e cazzo addorso dingo esatto lo sta attento perché va a partire pesa biusi guarda le belle freddy cacca 70 io ho sbagliato ho visto uno come no no gambenini fa bella difesa e risale risale tutto risale tutto miccoli miccoli per milito milito deve salire dei rossi daniele il capitano della roma di fuoco fuoco sopra che lì in alto 6 metri la prende bravo però non c'è cosa faremmeno per andrà a fanculo dai che cazzo è storico pigiato i trick e non l'ha fatto tenni parte però fa buona difesa di sceglie con lui che veniva infamato ti farà pure il gol se non sai attento cavani vedete rossi non ci direte lui però c'è milito o milito entra in area si era gol questo la pesa di mano il difensore bastardo l'ho fatto pezzo di merda allora no fermai pesa più di fermai pesa più di chi desceglie a fuori decente ma davvero mamma mia che giocatore dei figli come cosa la velocità è randomia c'è la prima cosa c'è non basta con le spi no la tende ma perché e che forte bucci non la può prendere un mio un po e il divieto per farci fare un pallone sparavamo qui in modo in via bene con le mani si poi la perola ferma e figli a cuo un'idea un'idea bene andiamo ed è stato il ballettino si ballettino baria rubare sta partì ha fatto due fili in porto in quest'epoca ho fatto poi diciamo da fuori ha fatto due fili da fuori luogo da fuori è fatto da fuori non mi sembra quando questa è la fuori mi fa vabbè ricic con il fatto di pesa user la parte del corpo vaffanculo nari di olor star d'ora non sono ma finita non ci posso venire ciao a tutti ragazzi si ciao a tutti ragazzi e schiappa vada 3 pesa più user ha fatto go dunque non hai idea ce l'ho 10 di pesa user si va bene la prossima ragazzi ci sarà la vendetta notate bene i tre tiri meno in porta del nostro amico buchi vediamo un attimo una valutazione dei giocatori voglio dire quanta pesi il suo portiere il mio 8,1 il suo 9,6 attenzione adesso vediamo il video è finito ragazzi ci vediamo al prossimo video dove farò il culo ai buchi lo prometto buone ciao a tutti ciao a tutti